Ho visto un'altra volta Nightmare Bonnie, l'ho visto ragazzi... E' un'altra volta con il mio social bash Ma sai che film è caro, sono le due ragazzi Voglio vedere la tua reaction No, la mia reaction niente Ricordate che sono io il creatore del canale Non è vero Si che è vero No, non è vero, non è vero Prossimamente sarà pubblicato anche nel mio canale Ok Sto per creare Ok, visitatolo si chiama, com'è che lo vuoi chiamare? Eh, lo scopriremo in futuro Vabbè, ve lo annuncerò nel prossimo video Che intanto mi sto apperciando Non lo faccio a essere più a letto E' quello che si fai No Oppure Mamma no, mamma Silenzio a quello che sta succedendo, perché? Tienitelo lì No, no, Alessandro, che schifo Sono le due Che schifo Ma dove so che era ancora? Che ore sono? Sono le due Ah, sì, è quello Ho sentito un rumore brutto, ve lo dico E non ti è piaciuto? Chiudi la porta sotto Un libro di grammatica Foxy E che Foxy? Devi vedere che si muove l'armadio Porco Foxy fa venire un rumore che mi fa paura No, mamma Io se no